Ciao sono Gianni95 e oggi ci troviamo su Minecraft e come potete vedere siamo in un posto disperso ho creato un nuovo mondo diciamo e volevo iniziare all'inizio perchè essendo tutti questi aggiornamenti con tutte le cose cambiate la nuova versione, le versioni compatibili, adesso metà con i zombie ecco perfetto io non ho niente come potete vedere a parte di avere esperienza perchè ho provato a fare esperienza senza avere niente in mano infatti vedete qua non ho niente e ho detto dai del titolo leggerete appunto stagione 1 adesso vado a cercare le pecore perchè non voglio morire qui in mezzo e vi spiego come prosegue la stagione, questo sarà solo un episodio di spiegazione mentre facciamo inizio ho visto che le live erano, cioè vi interessavano ma non così tanto ho detto magari perchè c'erano le parti noiose e allora andiamo però ho detto facciamo i video che magari risulta essere più interessante come se adesso se non muoio qua allora sezione 1 perchè ripartiamo dall'inizio utilizziamo gli scorsi episodi come forse una beta cioè forse l'inizio tipo come Fortnite no? non sto copiando la Fortnite perchè sennò ognuno copiere tutti e ormai non c'è più niente di nuovo cioè bisogna ispirarsi agli altri mentre noi prendiamo la legna se non mi ammazza nessuno ho sentito un ragno poi mi direto se l'audio si sente troppo, si sente poco facciamo di notte, sono di fichetta facile poi pian piano livelleremo in questi giorni mi sono portato un sacco di... mi sono progettato la serie adesso voi starete dicendo se è all'inizio cos'è progettato adesso c'è la zucca di buono cos'è progettato? sostanzialmente per adesso niente cioè nel senso non state vedendo niente di quello che sto progettando però magari per i futuri essendo appunto che ci sia la stagione 1 sapete no che ci saranno altre stagioni tutto questo comunque dipende dalle mie condizioni di salute e tutto quanto adesso non so quanto durerà questo video di repilogo la serie in mezzo ehm mucca mi spiace ma... la pecora? la pecora? c'è un'altra mucca? attenzione ehm... cioè adesso mi spiace il fatto che non... non vi farò gli episodi comunque in maniera costante e settimanalmente usciranno quando... quando usciranno perchè adesso non ho uscito le mucche perchè se no non ho il cibo dopo... dopo magari non ne uscirò più adesso però bisogna non usciranno settimanalmente perchè ehm... perchè comunque dovrei registrarli devo tagliarvi le parti inutili e io ci metto un sacco un sacco di tempo a fare le cose sono lento di mio e quindi dovete patentare voi però mi avete chiesto di portare minecraft e io ve lo voglio portare giustamente adesso sopravviviamo questa notte senza fare niente questi livelli vi ripeto li ho fatti a mano proprio ve lo vedo fino a quanto arrivavo e poi dopo mi sono stancato e... e ce li teniamo 26 fa niente insomma se non vi da fastidio eh se vi da fastidio mi... mi suicidio forse a volte proprio mi ha fatemi dormire che dopo non so dove mi fa spawnare no questo ragno dovrei farmi la crafting table che parte sto neanche correndo perchè non voglio sprecare la fame qua c'è un uovo le pecore grande le pecore perfetto sapete che ho una grossa pazienza quindi io a farmare ehm esperienza anche se non avevo niente ma tu si rimetti di seguirmi che magari ti picco coi semi grazie perfetto e di uccidere cose senza gli attretti necessari appunto senza spade mi è sembrato di vedere un filo se non vado ehm e noi siamo qua che... siamo vicino al mezzo ci ha capitato un... un mondo che... che buono quindi in mezzo vicino ehm la serie sarà strutturata in modo che io vi farò degli episodi questa stagione 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 1 vi chiamerò stagione 1 poi dopo più in piano magari lasciando qualche trailer proprio come... come fanno i... i giochi con le stagioni tipo Fortnite per l'appunto prendiamo ad esempio uno dei giochi più importanti di questo periodo oppure Fall Guys che... vabbè in questo periodo vi ha fatto uscire il primo episodio intanto mentre c'è la pausa non perdiamo tempo craftiamo la... la crafting crafty crafting e facciamoci subito il letto possibilmente perchè così possiamo dormire il letto bianco poi dopo lo coloreremo perchè fa schifo bianco è... è base non ci piace questo fiore... questi fiori me li prendo c'è un'altra pecora ma... ne abbiamo abbastanza di pecore no pfff è esploso un creeper così io picco gli zombie qua a mano ma io volevo prendere la terra che c'è qua per terra non voglio sprecare la terra anche se vabbè la terra ce n'è ce n'è ce n'ha fiotti ma levati devo farmi una spada sennò ci ragioniamo dammi la crafting ti prego eeeh fai il legno i bast... nooo ma l'ha detto controller legno bastoni e spada e la spada in legno subito aia male ho fatto un'altra crafting per caso ma l'ha detto ma l'ha detto fammi prendere la spada fammi prendere la spada buono è morto è morto è morto adesso ho la spada adesso adesso comando io ecco posto comunque per il momento di muovere tu perchè ho problemi di di cibo anche se mangierò la carne marcia allora ho fatto due crafting perfetto non se ne ha mai abbastanza di crafting e quindi usciranno gli episodi proprio raramente adesso quando sarà possibile io devo anche giocare adatti giochi non solo minecraft devo portare avanti con le stagioni se no non prendo ricompense io ci tengo la ricompensa adesso vuoi ritrovare il punto di prima perchè mi sembrava adatto per farci la casa io vorrei fare la casa la però per arrivare la bisogna fare un po' di strada vado senza dormire perchè anche questo non è un brutto laghetto però è facile la casa però quello la mi piaceva di più come posto non mi sa riesco a raggiungerla senza morire la dovrei cuocere la mano mi faccio indietro però sta arrivando il giorno vedi sono proprio vissuto una notte no te te sei lontano adesso adesso trovare il punto di prima sarà sarà tragico la situazione poi sono finito è arrivato il giorno è arrivato un giorno è arrivato un giorno di di minecraft senza fare niente solo perchè vi devo spiegare quindi questo video magari sarà più lungo però gli altri saranno più corti perchè vi taglierò le parti inutili tipo quando vado a prendere la legna quando non c'è niente interessante da mostrare e quindi tranquilli questo sarà solo un po' più lunghino magari ve lo divido in due parti non lo so devo vedere quanto viene lungo perchè io sono lento a fare le cose e purtroppo troppo è così sono lento però abbiamo trovato la lana abbiamo fatto il letto e quindi sono progressi piccoli progressi ma ci stanno ci stanno e vi ripeto che se l'audio non si sente molto bene me lo fate e fate riferimento che io vedrò magari deltare l'audio del microfono oppure l'audio del gioco anche se da quanto mi avete detto l'audio del gioco vi da vi da fastidio la musichetta anche se a me piace sinceramente i bug perfetto i bug più belli della vita e va bene comunque minecraft ancora non è stato sistemato correttamente perchè ha dei problemi di caricamento e quindi fa fatica a fare certe cose se ritroviamo il posto nella prima lasciate un like lasciatelo lo stesso però c'è la lava qui incredibile sono andato dove aprì la tarughina ci fa compagnia va bene accettiamo lo spawn perfetto così siamo sicuri che non ci spostiamo allora e poi praticamente adesso vi sto spiegando le cose allora questa serie sarà tutta da episodi e poi dopo un tot di episodi magari non saranno tutte le stagioni con i stessi numeri di episodi però magari questa dura tanti episodi la prossima dura 20 cioè per esempio magari ne può durare anche 100 però naturalmente come numerazione essendo che la inseriamo nella playlist di minecraft comincerà dal episodio 83 oppure magari ve lo ve lo metto in una playlist differente poi quando è finita la stagione ve la inglobo nell'altra stagione così nell'altra playlist così dopo sarà tutto concatenato nella stessa playlist non voglio fare 20.000 playlist di minecraft però mi piaceva che questo episodio sarebbero stati tipo con con l'indicazione 1 2 3 in fila no? 83 84 85 che sembra che sia chissà che cosa siamo all'inizio e dobbiamo iniziare con l'1 quindi magari adesso sarà un po' più complicato perchè dovrò fare un doppio editaggio sul titolo del video perchè dovrò farlo all'inizio e poi quando cambieremo stagione ogni volta però per voi lo faccio ditemi la vostra opinione io direi che naturalmente solo in questo episodio naturalmente vi metterò scritto stagione 1 nei prossimi vi metterò normalmente quindi se per caso vedete che tipo anche quando cominciamo la stagione 2 avrò scritto eh stagione 2 solo nel primo e più dopo nelle successive vedrete che non ci sarà ecco questo perchè non voglio allungare troppo i titoli quindi meglio più semplici possibili nel prossimo episodio inizieremo a fare la nostra sopravvivenza anche se letteralmente comunque stanotte è cominciato adesso però era solo per informarvi giusto qui tutto qua io rimango qua ho questa skin perchè diciamo in questo momento vi sto replicando senza connessione altrimenti utilizzate lei la mia quindi c'era quella di steve e quella di alex ho preferito alex perchè era molto più bella come skin piuttosto che steve la fischio di più è meno basic e io direi che la casa ve la farò qua questo laghetto mi piace come posso fare la casa lasciate un like ditemi la vostra opinione con un bel commento noi ci vediamo in un prossimo video se avete dubbi scrivete nei commenti io vi risponderò magari non ho detto qualcosa che vi possa interessare e preparatevi perchè se tutto va bene se la salute mi continua se continua a stare bene con la salute e con tutto quanto riesco a registrarvi ci saranno tanti begli episodi la serie cambierà e poi dopo più avanti si parlerà anche di serie alternative poi vi spiegherà più in piano detto questo ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando aiutatemi a arrivare a 700 iscritti perchè dobbiamo arrivarci il primo possibile detto questo a presto